Io mi auguro che sia un segnale per il governo, io l'ho firmato per unire anche il nostro sforzo, anche se da soli ne avremmo fatto uno molto più duro e probabilmente chiederemo di non partecipare quantomeno alle missioni internazionali contro la pirateria fin tanto che non ritornano in Italia i due Marò. Io rimango allibito di fronte alle dichiarazioni del ministro Bonino che dice che non andrà in India, che lei fa la politica dei risultati e non degli annunzi. Noi abbiamo sentito da loro annunzi, annunzi, annunzi e nessun risultato. La pazienza è finita.